ciao a tutti ragazzi qui è billy bulli che vi parla bentornati sul vostro canale ancora una volta con sfida billy quindi abbiamo lanciato questa grandissima sfida a blue moon bay ce la siamo giocata sui millesimi allora questa immagine venne da settimana passata quindi io ero in quarta posizione quando abbiamo iniziato i primi tre davanti e non ero riuscito a passarli chiaramente e quindi si era partiti così con questa sfida andiamo a vedere che cosa è successo perché veramente ci siamo ammazzati questa volta l'abbiamo fatta grossa intanto grazie a tutti quelli che hanno partecipato questa è una foto che ho fatto qualche giorno dopo diciamo due tre giorni prima della fine e mi trovavo in non a posizione come potete vedere siete in tanti e avevo superato e a bulli che diciamo era diciamo così lì vicino io ho migliorato il mio tempo vedete 43 268 e prima ero ero 290 quindi mi ero portato davanti a bulli che poi non non si era accorto magari ma quando si accorta ha detto no e no e no e qua sono ammazzate e quindi la classifica poi è cambiata andiamo a vedere adesso che cosa è successo quindi intanto grazie siete stati tantissimi a partecipare non mi immaginavo neanche che mettevamo in piedi così con un semplice una semplice sfida senza troppo impegno un qualcosa di veramente carino che mi da così mi riempie il cuore perché mi fa capire che c'è gente che ci tiene a me che mi segue andiamo a vedere la classifica finale billy decima posizione con 43 268 mi scappa subito l'occhio a vedere il bulli che non ci stava è andato a vedere di migliorare il suo tempo quindi guardiamo un pochino anche dietro guardate quanti siete venuti frankie danny ragazzi in tantissimi veramente tanti ci hanno provato e in nove ce l'hanno fatta di cui tre sappiamo che erano già là davanti non hanno partecipato andiamo a vedere perché subito mi a pallocchio gt gs adventure cacchio che botta sgobbi 2 che campione anche lui con un tempo che il bulli che non ci stava veramente a essere stato superato e ci ha riprovato poi abbiamo krl che c'era già nei primi tre e poi un toretto christian maledetto a te guarda che tempo che ha fatto veramente ci ha dato dentro non ha dormito la notte poi abbiamo un fly dutchman che praticamente lui il primo perché veramente 43 201 come hanno scusate gpl sport non c'era eccolo qua scusate è lui il primo che è riuscito a fare un 43 41 guardate che tempi da porre devo vedere un po i top player perché il decimo dei top player a 42 981 quindi con questa sfida siamo riusciti ad avvicinarci a tempi incredibili come potete vedere quindi voi più che altro perché io sono rimasto a 43 268 marcus per esempio l'ha fatto 43 0 33 quindi veramente veramente un tempo da paura signori io sono rimasto felice perché siete venuti veramente in tanti mi fa solo piacere che mi superate non so adesso si troverò una pista che che riesco ancora a così a dire la mia ma intanto voglio veramente ringraziare a tutti per il vostro sostegno e un abbraccio sincero da billy bulli ci vediamo al prossimo appuntamento sfida billy ciao a tutti ragazzi ciao